oggi scopriamo chi è che ce l'ha più lungo tra racchette da padel ma parliamo del manico ragazzi parliamo del manico del grip ciao ragazzi e bentornati al nuovo video qui sul mio canale molto spesso mi chiedete quale sia la lunghezza di un brand o dell'altro e allora ho pensato bene di tuffarmi nel magazzino di padel guru e li ringrazio sempre per la pazienza e per il supporto che mi offrono e in questo momento andiamo a vedere insieme tutte le lunghezze dei brand disponibili o quasi perché ultimamente avete preso l'assalto padel guru quindi qualche brand diciamo e si è volatilizzato però ne abbiamo ancora tanti e quindi andiamo a vedere chi ce l'ha più lungo partiamo subito con lei con uno dei manici più lunghi in assoluto parliamo di varlion in questo caso abbiamo la born summon prisma in questo caso versione summer ma summer winter non cambia assolutamente nulla andiamo subito a vedere qual è la lunghezza di questo manico e vi anticipo è il più lungo che possiate trovare sul mercato effettivamente questo manico misura 14 centimetri e mezzo se vogliamo essere proprio precisissimi senza considerare effettivamente dove finisce il grip ma considerando proprio dal nastro di chiusura fino alla fine sono 15 centimetri che in realtà corrisponde allo spazio che potete adoperare con l'overgrip e quindi effettivamente il manico che potete avere montando un overgrip e andando un po più su con il grip senza arrivare sul telaio è di 15 centimetri quindi veramente tanto ed è il manico più lungo che possiate trovare sul mercato adesso andiamo a vedere tutte le altre giusto una precisazione perché chiaramente parliamo dei telai summum quindi di varlion che hanno il manico di 14 centimetri e mezzo ma nelle versioni normali ovvero in alcune carbon black laddove non vi è indicato summum come dicitura vi è un manico di lunghezza tra virgolette tradizionale e andiamo a vedere quant'è il manico di questa avant carbon t che è uno dei best buy al momento nella linea medio medio bassa e il grip di questa racchetta misura 11 centimetri e mezzo sicuramente non poco ma nemmeno un manico veramente lungo per intenderci la mia mano sapete la bella mano grossa c'entra non dico alla perfezione c'è un attimino in più quindi in sostanza è qualcosa che funziona anche su una mano grande purché ci sia un rovescio ad una mano passiamo a star vai con la strumeris che è un manico medio per quanto riguarda la produzione di star vai vi ricordo il manico star vai è sempre abbastanza piccolino avete qui sul canale un video dedicato a come ingrandire questo manico con l'utilizzo di un grip aftermarket per dare una misura un po più piena andiamo a vedere però quanto è lungo allora effettivamente il grip è lungo 11 centimetri e mezzo ma dall'inizio dell'avvolgimento quindi prima che il traio tenda ad aprirsi come steli abbiamo 12 centimetri questo significa che effettivamente la misura che possiamo avere montando un overgrip è di 12 centimetri e sempre in star vai abbiamo la racchetta con il manico più lungo dell'azienda che è la triton pro vediamo un attimino perché star vai per lei dichiara un manico più lungo di un centimetro e quindi è quello diciamo più lungo in assoluto per l'azienda allora effettivamente siamo su 12 centimetri e mezzo di grip mentre dalla chiusura quindi dalla parte superiore del nastro di chiusura del grip siamo invece a 13 centimetri tuttavia vi faccio notare che questa racchetta ha la possibilità di salire tantissimo con l'overgrip e quindi di ingrandire il manico per portarlo fino a 14 centimetri questa è la misura massima che potete ottenere prima che il telaio apra i suoi steli e che quindi diventi più largo rispetto all'impugnatura e ora siamo invece con la drop shot che è un'azienda che ha un manico abbastanza lungo non quanto varion però devo dire che si difende molto bene in questo caso abbiamo la legend 3.0 e andiamo a vedere la misura del grip siamo a 13 centimetri contando la superficie coperta dal grip arriviamo a 13 e mezzo invece se consideriamo il nastro di chiusura del grip stesso questo significa che quindi la superficie effettiva è 13 centimetri e mezzo devo dire che l'inizio degli steli qui è abbastanza regolare lo stesso vale un po' per tutte quante le drop shot per cui un mezzo centimetro ancora lo si può recuperare salendo con l'overgrip e adesso invece siamo qui con wilson che non ha mai un manico veramente lungo in questo caso abbiamo la blade elite quindi che ha lo stesso manico in sostanza di tantissime altre wilson andando a vedere la misura abbiamo un manico effettivo di 11 centimetri c'è un po' di possibilità di salire un attimo parliamo di un altro centimetro oltre al grip quindi si può arrivare ad un 12 centimetri montando un overgrip poco più sopra nota però interessante per quanto riguarda wilson è che wilson ha uno dei manici più spessi sul mercato devo dire che un manico piuttosto tenistico infatti indica 4 1 quarto ovvero la misura delle racchette manico 2 del tennis eccola qui piuttosto piena in questo caso è vero abbiamo ancora il laccio sotto però si apprezza comunque la pienezza sia del tappo sia per quanto riguarda il fusto ok ora siamo con una delle racchette più tra virgolette commerciali quindi uno dei manici più adoperati in assoluto e devo dire che bull paddle si difende molto bene come dimensione del manico vediamo la misura effettiva e parliamo di 12 centimetri punto 8 effettivi di grip quindi sicuramente una bella misura ma anche un buono sviluppo di volume da parte di questo manico che sapete uscire con l'esa con rin partenza ma anche sostituendolo con un grip aftermarket ha il suo volume quindi non male questo grip a parte diciamo questa uscita laterale dell'accetto che finché c'è l'esacore è tutto ok ma con un grip aftermarket va a creare un bozzo particolare al di sotto anche qui in realtà si può salire un pochettino con l'avvolgimento dell'overgrip e diciamo che fino a un centimetro in più lo si può recuperare prima che il telaio si apra verso gli steli sempre di bull paddle abbiamo la linea cmf woman che condivide in sostanza lo stesso grip e quindi lo stesso sia volume che lunghezza andiamo a vedere che differenza c'è tra questo grip e invece quello delle versioni top parliamo di 12.3 centimetri quindi un manico che sicuramente non è piccolo per di più anche qui c'è un poco di spazio un altro centimetro da potersi prendere con l'overgrip e quindi effettivamente montando l'overgrip abbiamo la possibilità di avere un manico di 13 centimetri e differentemente dalle versioni top qui abbiamo invece un grip liscio non c'è l'esacore e io lo preferisco perché l'uscita dell'accetto è anche centrale tuttavia dipende molto dalle vostre preferenze allora adesso passiamo a qualche racchetta made in argentina a whip hybrid di royal paddle vediamo il grip quanto misura il grip è di 11 centimetri punto 8 prima che diciamo ci sia lo svaso d'inizio degli steli quindi diciamo che è quasi 12 centimetri per quanto riguarda la lunghezza massima avvolgendo un overgrip al di sopra adesso invece andiamo a vedere le versioni made in spain di royal paddle per vedere quanto il manico sia più lungo o più corto ed ecco m27 in versione control x manico identico in tutto e per tutto a tutte le altre versioni m27 andiamo a vedere sapete che qui c'è uno svaso particolare ve lo mostro vedete quindi il grip qui in sostanza va lavorato un po' di più se volete farlo salire andiamo a vedere un attimo però qual è la lunghezza effettiva e parliamo di 11 centimetri e mezzo per quanto riguarda la lunghezza dalla punta del manico fino allo svaso c'è chi preferisce avere il manico lungo o chi preferisce sentire la fine del grip e questo è uno di quei telai che fa sentire la fine del grip perché come vedete ha questo svaso qui svaso che nelle versioni 2023 non ci sarà più e ora invece siamo con lei una delle regine del mercato technical viper che ha un manico anche qui molto molto lungo vediamo qual è la misura esatta di questo grip parliamo di 14 centimetri con però la possibilità di salire ancora un poco 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 quindi può arrivare a 15 e quindi anche se quello di varion in sostanza è più lungo di mezzo centimetro è possibile adattare meglio questo manico qui per salire di un centimetro fino a 15 non male quest'idea la misura chiaramente del manico babblat di technical viper è una di quelle un po più solide non è il grip più grosso ma è comunque una misura che io ritengo molto performante dal punto di vista dell'ergonomia e vi ricordo che anche tra le tre top il volume delle tre babblat air counter e technical è diverso perché il manico diciamo intermedio è questo qua un po più spesso è quello di counter più soffice anche e il grip più sottile invece è montato su air viper che è in sostanza la piccola veloce incazzata di babblat e siccome siamo in casa padel guru lasciatemi misurare anche il manico delle racchette pg qui abbiamo la pg 400 e anzi vi ricordo che questa racchetta in questo momento fa parte del giveaway quindi ci sarà uno di voi che la vincerà e andate sulla recensione commentate il video e seguitemi su instagram perché è il modo per partecipare al giveaway per cui se ve la volete pappare andatevi a vedere la recensione ma andiamo a vedere la misura del grip allora qui il manico misura 13 centimetri e mezzo quindi una misura piuttosto buona tra le più ampie del mercato e anche lo sviluppo diciamo di volume del manico è molto vicino al concetto diciamo di babblat ma qui c'è un tappo differente leggermente meno marcato un poco più scosceso e allora abbiamo finito no non abbiamo finito ce l'ho qua dietro l'ho visto in fotocamera manca il manico volta adesso lo prendiamo e vediamo quanto è lungo questo manico allora siamo con la volt 900 che ha la grandezza standard dei manici volt vi ricordo però che c'è anche volt 1000 che ha un manico molto differente che di 14 centimetri e mezzo volt 1000 che al momento non ho disponibile ma sta arrivando presso padel guru volt 1000 è un po come il bisonte bianco americano la vedi una volta nella vita e poi non la vedi più veramente prodotti in pochi esemplari è molto richiesta adesso però andiamo a vedere la lunghezza di questo grip questo grip misura la bellezza di undici centimetri e mezzo con diciamo per la superficie di grip applicato ma c'è come vedo un altro centimetro che è possibile recuperare con l'overrip salendo quindi diciamo che si può recuperare un dodici centimetri e mezzo montando un overrip un poco più su non male sicuramente non una delle misure più ampie però vi ricordo che volt ha uno degli sviluppi di volume più interessanti il tappo ricorda un po quello di babblat e anche del fusto del grip è piuttosto simile bene ragazzi io spero che questo video più informativo vi sia utile se vi è piaciuto lasciate un like qui sotto vi ricordo che il like il modo migliore che avete per supportarmi per dire a youtube che questo video vi è piaciuto che questo canale serve a qualcosa e quindi mi raccomando lasciate un grande like sempre a tutti i miei contenuti e ovviamente iscrivetevi anche al canale vi ricordo che sono anche disponibili gli abbonamenti al canale per chi volesse supportarmi e volesse dei contenuti esclusivi come le live dedicate solo e esclusivamente agli abbonati e ovviamente anche la priorità di risposta nei commenti per oggi è tutto ragazzi ci vediamo al prossimo video Grazie 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 Grazie